Ciao! Marco! L'hai messo giù lì? Che ci fa con questi occhiari? Ma guarda, l'ho trovato fuori dal negozio! Ma sei un milanese preciso! L'ho trovato fuori dal negozio, un di qualche radical chic di merda, mi ha detto che fumassi le canette. E ti hai detto, soppacchini! L'ho lasciato lì anche il cosino di fumo, ed è venuto a cercarmelo il giorno dopo. Allora hai fatto bene! L'ho trattato, tipo il professorone di Ado Albo Giovanni e Giacomo. Bravo! E tu, bravo, ti droghi, l'ho chiamata la polizia! Bravo! Hai trovato neanche degli occhiali? Che cazzo vuoi? Ma gli occhiali, ma chi li ha visti? Che cazzo vuoi? Vai, vai, pedala! Bravo Cassio! Che cazzo vuoi fare il culo!